Sono ingegnere elettronico e lavoro presso l'Almo Elettrica. È una ditta di installazione in pianti elettrici e tecnologici. L'azienda è nata nell'83 con mio papà e poi pian piano si è evoluta. Sono entrato nel 2007. Dopo essermi laureato e aver avuto qualche altra esperienza lavorativa, ho proseguito con l'azienda di famiglia. Il progetto realizzato con Finder a Ragusa parte da un'idea dell'ufficio tecnico competente del comune. Noi abbiamo dato il nostro contributo per la realizzazione e messa in opera. È stata fatta una sostituzione, un ricablaggio veloce del quadro per efficientare un po' la pubblica illuminazione, tempi di accensione e spegnimento degli impianti e quindi incide anche sul risparmio energetico. Abbiamo notato comunque un certo ordine nell'accensione delle luci della città. Le varie zone, insomma, vederle accendere tutte nello stesso momento, insomma, è anche una cosa gradevole. I prodotti che abbiamo utilizzato di più della Finder sono, dubbiamente, i timer astronomici, il 12A2, che è un nuovo prodotto a doppio contatto, molto più comodo e pratico. La semplicità anche di programmazione, la versatilità. Per esempio c'è un'app per quanto riguarda la programmazione dei timer astro, con un MFC, quindi con un semplice cellulare, basta dare le impostazioni cellulare, memorizzarle e poi caricare in serie la stessa programmazione in più dispositivi. Quindi per un utilizzo standard del prodotto è molto comodo. Poi per l'uso negli impianti civili, dire le passo passo, insomma, che hanno fatto la storia della Finder. Per l'uso negli impianti civili, dire le impostazioni cellulare,